Speriamo che si decida, ci si decida definitivamente a lasciare questa specie di palazzetto, è un'offesa chiamarle palazzetto, un'offesa per gli altri palazzetti, quelli veri, questa palestra che ormai non ha più motivo di esistere per una città come Monopoli. Gli inconvenienti tecnici che confermano la vetustità di certi impianti che non hanno in effetti più motivo di esistere, questi blackout capitano spesso e volentieri e non devono più accadere.